Salve a tutti, in occasione della Supercoppa tra Politec Piscine e Panineria Sanzio, vittoria per la Panineria Sanzio per 7-3, qui è l'uomo Team Actea Toscano del Politec Piscine, autore di due gol su tre Toscano, hai fatto un'ottima partita, ti vedevo sia in fase di attacco che di difesa, partivi anche da centrocampo per poi concludere la rete, cercavi sempre lo scambio con Cerano e con La Rosa, all'inizio è andato tutto bene, al primo tempo poi siete un po' disuniti. Sì, all'inizio abbiamo cercato di metterci in campo bene, ce l'abbiamo fatta, fino alla fine del primo tempo eravamo sul pondeggio di 2-2 e stavamo facendo bene, poi sul lungo sono usciti loro che sicuramente sono migliori di noi individualmente e anche come squadra e hanno fatto loro il risultato meritatamente. Ma cos'è mancato secondo te, energie fisiche o compattezza di gioco? Perché insomma all'inizio del primo tempo, lo dicevi tu stesso, 2-2 e poi 7-3, insomma. Sì, sicuramente, un calo fisico sicuramente, ma anche mentale, non eravamo concentrati abbastanza e loro sono andati meglio, sicuramente. Quest'anno se sarà il solito terminale offensivo insieme a La Rosa e il capitano del Politec ripresenterete la stessa squadra? Sì, penso proprio di sì, speriamo di fare meglio dell'anno scorso, di qualificarci per la Champions. Avete vinto l'ACTAG l'anno scorso? Sì, questo sì, siamo divertiti, abbiamo fatto bene vincendo l'ACTAG. E quindi quest'anno cercherete di andare in ACTAG e poi chissà, con questa compattezza di gioco si può andare avanti, no, si può andare avanti con la compattezza di gioco, magari però con un po' di fisico in più si può tenere testa a questi grandi giocatori? Sicuramente qualche innesto dovremmo farlo per migliorare la squadra. Grazie mille Toscano e complimenti ancora. Grazie mille.